Lei al posto di Ciamponi avrebbe fatto un passettino indietro? No, Ciamponi è una persona talmente corretta e trasparente che me lo ha proposto. Quindi il giorno successivo a quando è stato iscritto nel registro degli indagati si è presentato nel mio ufficio mettendo nelle mie mani le sue dimissioni. Non le ho accettate io e gli ho chiesto di andare avanti perché naturalmente guardandolo negli occhi e chiedendogli da questo punto di vista l'unica rassicurazione che ho chiesto al Ciamponi è esattamente questa. Ci voglio sapere se tu hai avuto qualche debolezza e se c'è qualcosa che possa macchiare la tua onorabilità e insieme a te l'onorabilità dell'Asle e di tutta la Regione. Ma se tu mi assicuri che sei, come ti conosco, persona corretta e trasparente e che l'unico incidente di percorso è stato quello di dare confidenza a Sabatino Trotta e fidarsi magari del suo suggerimento di andare ti presento al concessionario, conosci qualcuno che vende un'acqua se è questo il livello e non c'è niente lui non ha mai svenduto il suo ufficio per altri interessi lui gode della mia fiducia e penso che sia una fiducia ben riposta in una persona seria e trasparente.